Bene, ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a vedere come calcolare, determinare, rappresentare graficamente la scelta ottima per il produttore, ovvero il mix ottimo produttivo per quanto riguarda funzioni di produzione tra fattori perfettamente sostituibili. Quindi prendiamo subito una funzione di produzione in capitale lavoro pari a 2K più L. Bene, in questo caso andiamo subito ad approcciare come al solito alla funzione quindi calcolando il prodotto marginale di K.